per farsi il bidet la mattina qui sotto lo abbiamo attraversato due anni fa fa il bagnone esatto massimino il bidet è fatto il bidet l'abbiamo fatto il bidet dico ci sono giù due sassi che cazzo non c'è questo graziano che è giusto si decide un po' dai dove andare a dire la verità hop 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 come vai vai tè già vedo lui che spasta lì bene e metti da forte bravo Max bene o male che mi hai avvisato se hai fatto un posto del cazzo che mi hai avvisato non c'è 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 che brutto poasso 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 buttati che morbida buttati che morbida cacchio brutto poasso che brutto poasso che brutto poasso che brutto poasso